Tradizionale cena di Natale di Aisverbania al ristorante Carpinus di Miazzina. È anche l'occasione per fare un po' il bilancio di quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo la fortuna di poterlo fare il bilancio, perché l'anno precedente non l'abbiamo potuto fare. Questo invece lo possiamo fare e siamo molto contenti, perché nonostante tutte le difficoltà, si può o non si può, siamo riusciti a fare una bella serie di serate, parecchi incontri, concludere i corsi e mettere in campo due nuovi corsi per il nuovo anno. Per cui siamo veramente molto molto contenti e siamo venuti quassù a farci coccolare in questo posto molto semplice e piacevole. Lo vediamo, le bottiglie sono già stappate, alcune si stanno preparando, il panettone è pronto, ma questa oltre che una bella serata conviviale è anche un'occasione per fare solidarietà. Sì, come ormai è tradizione, siamo già a dieci anni di questa tradizione, una parte del ricavato dell'incasso andrà devoluto all'ospedale di Verbania, reparto di oncologia, ormai ci conoscono, per noi è un piacere e i nostri soci quando vengono sono ben lieti di dare questo piccolo apporto in più. Anche la presenza di AIS regionale qui questa sera? Certo, è un piacere venire a condividere questo momento di festa e per gli auguri di Natale, di buon anno con gli amici del Verbano Cusi Ossolo, è un po' lungo da pronunciare ma del VCO come si riassume, per condividere quello del momento di festa, visto che durante l'anno condividiamo anche i momenti formativi, questo mi sembra un momento doveroso. Dopo mesi difficili anche per AIS Verbania, finalmente si riprende, si riprende con i corsi, si riprende con gli eventi a livello locale ma anche regionale. Sì, è stato un momento difficile, non è ancora per certi versi ma con tutte le opportune precauzioni nel rispetto ovviamente delle regole si cerca di riprendere un po' quella che è la vita associativa sia a livello dei corsi ma anche delle degustazioni, quindi dei momenti che possono servire anche a rinsaldare i rapporti che in questi mesi si sono un po' rallentati. Grazie! Grazie!